Buongiorno a tutti, qui Ardino Schenato, sempre da Yardforex.com e questo video è il sequel del video della settimana scorsa dove abbiamo preso il libro Market Wizards con il trader Paul Tudor Jones che nell'intervista nel libro di Schweiger raccontava degli aneddoti o comunque delle cose che rispecchiano molto il mondo di Yardforex, il mio approccio al trading e quindi ho voluto con voi leggerle e magari farci una riflessione insieme. Ecco, anche oggi voglio andare a prendere una delle tante interviste del libro Market Wizards, quindi eccolo qua, questo libro qui, se avete visto il video della settimana scorsa ho preso appunto questo libro, assolutamente un libro da avere a mio avviso, ne ha fatti altri, quindi avere anche tutta la collana è sicuramente una cosa molto molto interessante, trovate comunque il link qui sulla descrizione del video per andare su Amazon direttamente su i vari libri Market Wizards, le varie collane, le varie edizioni diciamo di Market Wizards. Quest'oggi vado a prendere un altro trader che ha intervistato Schweiger, un trader forse un po' meno conosciuto posso dire, in realtà chi fa trading lo conosce però non è così conosciuto come molti altri trader, è Edward Seikota, Ed Seikota. Questo Ed Seikota è nato negli anni 40, metà degli anni 40, due lauree se non sbaglio, una in management e una in ingegneria e praticamente trader che ha anche gestito soldi, trader che si annovera tra i trader con maggiori, tra le maggiori performance sul portafoglio nel maggior tempo, quindi non solo grandissime performance che non mi sto neanche a dire, ma anche continuative, quindi diciamo sono durate molto molto tempo. È stato praticamente il maestro di Michael Marcus, anche lui presente nel libro come trader, anzi è stato Michael Marcus che nel libro dice proprio a Schweiger di intervistare il suo maestro che era Ed Seikota. Va beh, al di là insomma della storia di Ed Seikota, io ho preso dall'intervista, che appunto sto rileggendo questo libro come vi dicevo, e ho ripreso alcune situazioni, alcune frasi, alcune risposte alle domande appunto di Schweiger e con voi mi piaceva vedere una di queste, allora vado a prendere subito l'intervista a, allora, eccolo qua, lui dovrebbe essere, eccolo qui, Ed Seikota ha scritto così, dove c'è un po' di storiella prima e a pagina 80, se non ricordo male, tra le varie domande c'è una domanda, due domande e una risposta, e due risposte che mi hanno, che mi hanno, così, mi hanno fatto riflettere dedicate ai fondamentali e soprattutto mi hanno fatto riflettere perché penso le stesse identiche cose e è quello anche che dico spesso un po' a tutti i trader che si approcciano al trading con il mio metodo di lavoro, con il metodo IR Forex, diciamo, price action naked, e quindi siccome mi sono ritrovato molto in quello che dice Ed Seikota e tra l'altro un trader prettamente tecnico e come si legge dall'intervista, Schweiger dice che lo colpì molto il fatto che Seikota era molto molto attento a tutta la parte psicologica, diciamo, mentale del trader, no? E quindi anche questo, diciamo, è un punto che collima molto con quello che noi diciamo sempre, con quello che cerchiamo di proporre a chi si avvicina al mondo del trading. Allora, prendo l'intervista, cioè queste due domande risposte, le prendo, eccolo qui, a schermo pieno, perché così le vediamo insieme. Ovviamente è un libro scritto tutto in inglese, quindi con voi ovviamente non leggerò in inglese, ma ve lo tradurrò mentre lo leggo, insomma, tanto non è così difficile, diciamo, nella lettura. Allora, prendiamo praticamente questa e questa, che vanno a discutere dell'approccio tecnico fondamentale al trading, ok? Allora, che cosa gli si domanda, prima domanda? Lui gli dice, Schweiger gli dice, cosa ne pensi dell'utilizzo dell'analisi fondamentale come input di trading, diciamo, nel trading, e lui risponde, Ed Seicota dice, i fondamentali di cui leggi sono in genere inutili, in quanto il mercato ha già scontato il prezzo, no? Io li chiamo funny mentals, cioè praticamente li chiamo cose mentali divertenti, come dire, cioè il fatto di vedere, se sei così intelligente da riuscire a indovinare, no? Dal dato come si muoverà il mercato, no? Quindi giochi, giochi mentali divertenti, quindi funny mentals. Tuttavia, dice, se capisci, se li capisci presto, cioè se arrivi prima che gli altri ci credano, allora potresti avere preziose sorprese mentali, no? Quindi la butta un po' in ridere, come dire, dicendo però anche che se tu comunque ci credi prima degli altri, in effetti con questi dati fondamentali, magari puoi anche avere delle sorprese, no? Mentali, cioè che ti ritrovi intelligente in quello che hai detto e ci hai indovinato, diciamo, no? Simpatico. E volevo partire proprio da qui per poi chiudere con l'altra domanda e la sua risposta che è assolutamente bellissima. Dice, la tua risposta è un po' faccetta, gli dice Schweiger. Implica che usi solo l'analisi tecnica, per il tuo trading naturalmente, e lui gli risponde, sono principalmente un trader che va con la tendenza, un trend trader, no? Che segue la tendenza e dice, con tocchi di intuizione, cioè ogni tanto con un po' di intuito, basati però, questo intuito, su circa vent'anni di esperienza. Quindi chiamiamolo intuito, avete capito. In ordine di importanza, per me, ci sono, primo, la tendenza di lungo termine, chi vi ricorda? Due, il modello grafico corrente, chi vi ricorda quando si parla di struttura? Tre, la selezione di un buon posto, di una buona area, di un buon punto per comprare o vendere, chi vi ricorda? Questi sono i tre componenti principali del mio trading. Poi dice, giù, lontanissimo, molto distante, al quarto posto, ci sono le mie idee fondamentali e, molto probabilmente, a conti fatti, mi sono costati parecchi soldi. Mi sono costate parecchi soldi. Allora, io ritorno qui con, ecco, la mia faccia, anzi, facciamo proprio così, così prendiamola proprio totale. Allora, avete visto un po' quello che dice il buon Seikota. Quindi lui va a, così, a riprendere il fatto che vuole proprio sottolineare la sua essenza di trader tecnico, perché dice che spesso sono fondamentals, no? Questa ricerca di trovare nei fondamentali comunque una risposta in ottica operativa, ovviamente. E poi conferma, perché la domanda poi di Schweiger è stata anche abbastanza così, abbastanza, come dire, spinta, no? Quando dice, ma quindi questa cosa che tu dici implica che sei solo un trader, che usi solo l'analisi tecnica, che usi solo i grafici, che usi solo l'analisi grafica. E lui dice che è prettamente un trend trader e che usa tre cose, principalmente. Guarda il macro trend di fondo. Vi ricordate quando noi parliamo di weekly, no? Non andiamo su dei frame bassi, cerchiamo di guardare la macro trendenza del mercato. Poi dice, poi guardo, secondo dice, il modello grafico corrente. Quindi quando vi diciamo, andiamo poi sul daily per capire la struttura del daily, per capire magari com'è impostato in questo momento il grafico. E poi il terzo dice, vado a, la rileggo, il tre è la selezione di un buon posto per comprare o vendere, no? Di un buon punto per comprare e vendere. Quindi, quando noi parliamo di livelli chiave, qui praticamente è il 6 cota, praticamente è Arduino Schenato sotto ventito e spoglie, forse è Arduino Schenato che è un 6 cota con sotto ventito e spoglie. Quando parlo della struttura è che ci sono alcune cose da guardare per capire se veramente quel mercato ha senso andarlo a tradare o meno. Quindi questi tre sono i punti anche per lui, lo sono anche per noi di Airforex. E la cosa interessante che poi vuole sottolineare, dopo la domanda di Schweiger dice, poi molto lontano, giù, al quarto posto, ci sono le mie idee fondamentali. E se devo essere sincero, molto probabilmente a conti fatti mi sono anche costati dei soldi. Allora guardate, io sono totalmente in accordo con questo e volevo anche dirlo, perché ovviamente ci sarà chi ascolta questo video e che è anche una persona che osserva i dati e che magari addirittura cerca di interpretarli e che magari anche ha successo su questo. Io non voglio offendere nessuno, assolutamente, non voglio neanche mancare di rispetto ad altre metodologie. Però ecco, con questo volevo sottolinearvi come non è che sono l'unico, così, passatemi la parola, l'unico scemo che inizia a dire la price action e si può fare trading anche solo con questo. Perché ci sono esempi, esempi, esempi di trader conosciuti come Ed Seicote e come molti altri che confermano totalmente e conosciuti e che hanno avuto dei track record di conti gestiti, cioè gestioni eccetera, quindi assolutamente verificabili che confermano come non per forza guardare in questo caso i dati fondamentali, l'altra volta parlavamo di altro con Paul Tudor Jones, ma questa volta non è non è importante realmente il dato fondamentale in sé, cioè l'importante è essere focalizzati su quello che è il nostro metodo, in questo caso anche lui come me va a guardare esclusivamente quella che è la price action di base e cerca di operare con quello. Poi durante l'intervista parla anche di money management eccetera, però oggi volevo soffermarmi su questo, ovviamente poi se non c'è money management, se non c'è tante cose, ovviamente può mancare molto. Però ecco, a volte il cercare di mettere troppe cose insieme non è il massimo e anzi devia da essere efficaci poi nei risultati del trading, in non essere efficaci addirittura come dice lui, le volte che ho dato ascolto un po' alle mie idee fondamentali, probabilmente a conti fatti mi sono anche costato dei soldi. Quindi sono molto d'accordo con questo, quindi pensiamoci, ecco questa qui era una lettura che sto facendo qui in ufficio quando qualche mezz'ora sto rileggendo questo bellissimo libro e sto prendendo alcuni punti che fanno proprio, collimano perfettamente con il metodo IR Forex, con il mio approccio al trading e quindi volevo così sottolinearvelo. Poi sentire queste cose secondo me ci fa ancora essere più focalizzati, quindi se fate price action, cioè se volete affrontare il mondo del trading con la price action come da tanto tempo cerco di divulgare, lasciate stare il calendario economico, lasciate perdere tutte le cose che possono andare a forviarvi nella vostra idea di trading perché magari sicuramente quelle cose là nel tempo possono anche essere dei mover del mercato ma un conto che siano quello, un conto è da quelle trovare degli spunti operativi che siano come dire oggettivi che abbiano una certa rilevanza poi sul mercato di breve termine, nel breve medio termine. Bene, io a questo punto vi saluto, so di aver fatto un video probabilmente da integralista dell'analisi grafica però pazienza, ripeto, rispetto assolutamente chi fa un altro tipo di trading ci mancherebbe però questa è la mia esperienza e quella anche per esempio di un trader importante come Seicota e così volevo insieme parlarne e condividerla. Io per oggi ho finito, volevo ricordarvi sempre di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e di attivare la campanellina che c'è sulla home del canale così che potete ricevere tutte le notifiche dei video che noi andiamo a fare delle live eccetera eccetera. Bene, per oggi è tutto, io vi auguro ovviamente un buon Trading Simple per la prossima settimana e basta, per oggi è tutto.